Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo episodio delle fucking games 3 Io sono Lollo Lui è Petra E lui è Danny Amici russi siamo noi Amico terrorista Stai per Minchia stai Vabbè tralacendo sta cosa Adesso Non giocheremo per la prima volta da mediacu un'arma Non ci vedremo che hai fatto 3 Eh no dammi dammi Prendi le altre due la sopra perchè cazzo non ne vieni a prendi Ecco hai anche staccato le cuffie Porca puttana Ok Adesso Danny Tocca a te completare missioni Correggio 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 fratello Danny Prendi mouse e tastiera o ti fico una pallota La testa Guarda che fucilazzo che c'ha l'altro Ma il tastiera si Mouse e quattro Stiera lì No 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 tranquillo E' anche scarico quindi No neanche due batteri Quindi dai Incominciamo Silent Always Chapter 1 Inizio Io l'ho già finita Io l'ho già finita tutte e tre Si Che cazzo caduce non me ne frega niente Non lo so vai vai a tenere roba le coglioni Corri Corri Gira a destra A destra A destra Segui le torce Non editi Segui le torce Le torce Sto seguendo Sto seguendo La casa La casa La casa di merda Ha fatto con la merda Perché ne hai messo per terra il fucile? Scusa Allora Ma lancialo sul letto Cosa hai incastrato il topolino? Allora c'è qualcuno che sta giocando qui eh Ci sono tre cappelle giganti Ma la perdita non è preoccupante Cosa? Ci sono tre cappelle giganti Oh yes Ma... Ma se fosse uscito dalla mappa Ma questa è... E' l'esterno si Vai Open the door Open the fucking door Perchè ti sei chit-chit-chit-o? Aspetta ho perso il tasto Sei un po' scomodo Is recording for us? Si Is recording for us? Vedi nel rosso in alto assi Piccolo 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 Ok Ok Just turn left Ok Let's go Run Run motherfucker run Mau Mau Is close the door? Ok turn turn Right Right Apri the stack Vai qualcuno Vai chiudo Gira destra Torna indietro Vai dritto Vai dritto Giro Vai vai Non sono ubriaco ma sono un po' lontano dalla prestazione In stazione Vai Dio Ma perchè Dio è sotto Non ci sono i mostri Giro a sinistra Giro a sinistra Mi dovrebbe essere aperto Ok Vai dritto Giro a sinistra 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 Provo a usare la chiave Ma sa anche lui giocava Non è proprio qualcosa E io gli dico cosa fa No torna indietro Eh finchiamo non male che gli dici cosa fa E' preoccupante C'è un'armatura Tu vai vai tu vai Non Non Tenete di fregare dell'armatura Non è importante Questi ti tirano da sui I cadaveri Che bagun- Si non lo devi buttare Ma te Voglio prendere il ca- Eh come fa più dei pa- I don't care motherfucker Ah 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 Ti ho toccato la testa Puttana Bitch I don't trust you I don't trust E' vero E' vero E' vero E' vero Eeeh La madonna E' comparso un'armatura E dai dai vai 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 Ma non ci avete nel confesso Del confesso Bellissimo O io ce l'ho in confesso Vai vai dritto Cazzo è vero Aaaaah Ma che urli già Questa volta ho fatto f my Ah Ok E' vero E' vero la chiave La chiave Uso la chiave cozzo apri ma che puoi fare, tu quando, cioè, in casa, quando apri il porto ti sbagli in faccia mi sai di sì, minchia, minchia, danny cazzo e mi hanno indicampato, porca puttana, insomma ma che sai, le cuffie che è cazzo oh, vabbè, porca troia dai, minchia oh, le cuffie che mi scendono che mi scendono, non siamo più capiti a giocare a me esatto facciamo un cambio postazione minchia, una chiave io mi nasconderei nell'armadio anch'io ahah, che dù I don't care fuck you nasconditi adesso te lo riuscirò che ti ammazza no, I don't care, madrefuck non mi ha visto visto non posso scappare ma te lo riuscirò, adesso sta a me pronto pronto, tre mi sa che ti ha visto e non l'ho fatto a pol ma anche tu che non chiudi la porta quando io e non l'ho saltato io oh, indistruttibile ma è blindato questo cazzo è blindato ragazzi tu apri prima l'armadio nel secondo cassetto c'è la chiave il primo è vuoto e il terzo è vuoto ahhh 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 No, no, no! No, no, no! No, no, no! Lei c'ha presa la chiave, devi andare nella porta. No, no, no! No, no, no! No, noi fanno tutti schifo. No! Michael! 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 Michael, motherfucker! Michael! Gira a sinistra. Vai sempre dritto. Cazzo, poi la prima a sinistra. Esci dalla tutta la terza uscita. Vai dritto! Vai fottutamente dritto, fottuto stronzo! Non corriendo! Ok, prendi la chiave. Prendi la cazzo di chiave. Prendi la chiave a cazzo. Perfetto, apri sta cazzo di porta. Minchia, vai fottutamente... Non fare il dj con la porta! Vai fottutamente dritto! Non fare il dj con la porta! Ah! Ah! Quando fa? Baby, il pezzo bello è quello di cui cominciamo. Ah! 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 Ma f***comai! Oh, ah! Eh, non c'è un p***o. Poi... Quello... Quello pezzo non ha! Riga! Per questo sarà il più bello di tutti! Senti che ti... Cazzo, Pedro. Ok, questo... I don't know why you are here. But if you are looking for the missing person, you should look for him in the salad. Don't tell anyone to I help you! I might get into trouble then! Diventano in cantina. Vai in cantina. E qual'è la cantina? Boh, una a caso. Apri. X o... Eh, ti farei... Questa in you. Tu non è nulla. Open. Questa sarà aperta, eh sì. Vai in questa bellissima villa lussuosa. Stai attento a destra. C'è un corrido. Destra? C'è un corrido. DESTRA! Bravo. Sento il rumore del mostro. No, non è rumore del mostro. È tipo una cosa che ti mettono così. Lo so. Cazzo dentro dentro! 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 Muoviti! Vai ed... Corri, corri cazzo! Corri! A destra, a destra! Dentro l'armadio! Cazzo dentro l'armadio! Dentro! Ficcati dentro! Dentro cazzo! Chiuditi! Chiuditi! Muoviti! è vicino è vicino fermo guarda in basso c'ho la chiave guarda in basso c'ho la chiave c'è io il rumore della mostra sono educato e chiudo l'armagno è una cosa che ti mettono l'ora per farti buona guarda il rumore della chiave chi aspetta dopo sta fisa fincati dentro inchinati ora sei lì fuori ma non mi sta facendo poco ma ti sta buttando nell'orecchio ma dai non mi ha sentito ma c'è l'infinito il futuro sbarmato oh mio dio mi scappò da pisciare è una tensione apri un attimo siamo dentro l'armagno apri teniamo che non mi ha visto vero? aspetta esci esci non c'è lì esci piano io mi ricordo che tipo io quando ci scrivo sto giocando a Terminator ma il mostro non mi fa paura vai dritto vai shallow zio giro sinistra sinistra ah che bella scultura ok prendi tutte quelle cose che servono per la sanità mentale per la cultura non serve per la sanità mentale pure brutto ma c'è un po' di laudano 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 minca laudano non lo conosci laudano ma dici che è normale che ce ne danno così tanto in questo gioco si ci sarà un motivo sai e infatti è quello che vi spaventa se ti danno tante posizioni a sanità utile che la tua sanità mentale giochiamo a bullying allora torna indietro prima che il mostro ti viene non vuoi giocare a bullying adesso gira a sinistra gira a sinistra gira a sinistra gira a sinistra vai dritto vai fottutamente dritto gira a sinistra gira a sinistra siete voi che lo siete caro la sensibilità che fa schifo e basta ma infatti io c'è la chiave è troppo alta c'è la chiave apri staccato nuovo le cuffie siete vicino eeeh c'è qualcuno là in fondo io non so perché sei qui ma se stai guardando ah si è il pony è mai detto il pony ma che cazzo di castontori ci hai fatto affare è bellissima questa castontori comunque secondo me è sfondato il tuo affare con le cuffie le cuffie no ok ora vado let's go ok entro butti il tinto da sala si non sento un cazzo cosa stavi dicendo allora con queste cuffie il maiale prendi il maiale prendi il maiale ci mangiamo un maiale ciao Danny prendi la pasta seee no prendi la mangio che hai fatto Danny prendilo prendilo dalla prendilo dalla faccia prendilo dalla faccia prendilo dalla faccia andiamo avanti non parlare compagnale tu fidati che adesso ti prenderai un bello spavento e lui lo dice lui vai l'uomo che apre il più veloce le porte adesso gira la destra perché la sinistra non puoi andare mi ispirava di più la sinistra la destra lo scegli la destra e la sinistra la sinistra è chiusa cazzo quanta incerta scegli la destra o la sinistra la sinistra la sinistra la sinistra vedi sta chiave perché sta qui siamo sicuri di prendere la chiave eh si se no muori non capisco perché in questa cacchio di cazzo non ti devi chinare per prendere perché te lo voglio ne... niente prova ad aprire non mi ricordo più se era chiusa prova ad aprirla è chiusa prova ad usare la chiave apri hai la mia chiave prova ad usarla ero un genio ma io... cioè io... ci vedo te in casa no? a diventare in casa ci sbaglia la porta di faccia eh minchia... ma hai una lanterna? non ce la devi la troverai più avanti la lanterna di tua sorella hai una sorella? si cazzo scusa ma quando? si è vero minchia una cazzo di pelle di taino minchia cazzo di armature piglia la chiave pigia pignaia ah no devo... minchia chinati per pigliare la chiave no mi devo chinare a loro mi piace quando ti chini lo sai I love you when you put my ass ti hanno circondato ti vogliono picchiare io sei cazzo tra una chiave la raccoglia che mi trovo intorno a quattro armature mi sa che vogliono fare una gangbang qua oddio io non ci sto no si prego con le armature la che fa male non ci sta molto ma questo è che cazzo di gameplay stiamo facendo? scusa parliamo solo di... di gangbang è roba gay ma c'è una volta gigante ehm... con un buco gigante ahahahah basta parlare di cose gay oh fuck I will censure your ass, mother fuck allora mi state confotendo no corri 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 no 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 scappa cazzo scappa no ti sta ammazzando ti sta ammazzando ti sta ammazzando ma stronza bastarda ti sta ammazzando il cuore del cuore non mi devi inquietare sto cuore guarda 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 no bastarda puttana puttana troio bastarda calma lollo prima di guardare questo gameplay ci siamo... trova affatti di robot non è possibile dai ma di nuovo sembrano 40 minuti di gameplay ciao danny raccoglieni intanto tagliamo tutto sono il tuo maialino preferito batte sul tavolo te no no è già la chiave torni indietro mi raccomando scappa dal pony anche il pony che ti dice la cazzo puttana questo c'è ma cammilla cammilla stai tipo stai con me maiole raccoglimi ce l'abbiamo la chiave raccoglimi sono il tuo maiale preferito non devi tornare a guida stai di cazzo c'era la porta a causa sono il tuo maiale non sento niente mi ha amato questi maiali mettimi 90 scopo la mia bella è morta ok come stiamo tagliando no hai finito di fare il maniaco sessuale ah c'è un piccolo batte su sta porta allora puoi fare il cazzato stai scendendo mi alzo no no devi fare così aspetta Danny aspetta no questa porta qui questa porta qui ci vuole una tecnica speciale che tecnica vediamo cosa c'è di qua stiamo giocando di tutti ci sparta la porta in faccia ma non abbiamo un'altra cazzo di lanterna un'altra non ce l'abbiamo la lanterna finita eh si poi c'è capitolo 2 capitolo 3 perfetto ragazzi per questa puntata di fucking games and truth tutto sta culo esatto la parte 2 arriverà tra un po' di giorni due settimane due settimane tipo ci vediamo al prossimo video se il video vi è piaciuto mettete il mio e iscrivetevi al canale scusami scusate abbiamo fatto un video di merda eh ha ragione chiediamo scusa ma ci siamo fatti di marijuana prima di questo è lo stesso scritto di burzoom eh si andate ad ascoltare burzoom burzoom motherfuckers eh vi vogliamo bene bravo Thomas Grippe che ha programmato se il video vi è piaciuto mettetemi se il video vi è piaciuto mettetemi se mi piace iscrivetevi al canale let's go motherfuckers mettete un bel mi piace anche alla fanpage di di facebook mi piace mi piace mi piace mi piace ciao a tutti ciao a tutti da petro ciao 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 diciamo una cosa bella allora cosa diciamo che 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 devo farmi la doccia ma che mi scappa la pipì devo farmi la cacca spruzza vabbè ciao ok ragazzi se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale ciao no 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 aspa 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 se il video non vi è piaciuto iscrivetevi allora fermiamo questa video no se il video non vi è piaciuto ora c'ha 40 minuti quasi quasi lo carico senza tagli è veramente bello lo carico senza tagli no no se il video non vi è piaciuto mettete lo stesso iscrivetevi lo stesso che non ce la feste ciao 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 e non importa c'e o le cose che le perdo non mi fa cambio già aspa che cazzo sei anche ridotto dalla mappa cioè nu tu tu non puoi giocare a questo gioco thannibo Boh basta no non è possibile cioè dai cazzo Grazie.